Ma che razza di furfanti sono quei tipacci che si sono introdotti nel mio castello e hanno portato via il mio tesoro? Di sicuro deve trattarsi di Captain Syrup e della sua banda! È assolutamente necessario che riesca a trovarli e recuperi il mio tesoro anche se non riuscirò a recuperarlo tutto in una volta non importa posso tornare indietro più volte e non finché non avrò raggiunto il mio scopo Captain Syrup non ha nessuna possibilità contro di me Ciao a tutti carissimi amici retro dopo questa piccola interpretazione del protagonista di questo particolare recupero che ho effettuato poco fa anzi, prima di mostrarvi il gioco provate a indovinare di chi si tratta beh, non voglio lasciarvi sulle spine ma dalle immagini che ho messo e dalla voce che ho tentato di imitare vi mostro questo ritrovamento storico uno dei miei personaggi Nintendo preferiti ovvero Wario Land 2 per Game Boy chiaramente è la versione in bianco e nero ovvero la primissima versione che era uscita proprio all'inizio proprio mi sembra nel 97... 98 infatti, perché è al tempo c'era proprio la fase di cambiamento tra Game Boy e Game Boy Color infatti Wario Land 2 era stato creato sia in versione bianco e nero ovvero questa è la primissima edizione e poi la versione a colori che possiedo già comunque ragazzi questa è la versione in italiano Jig e adesso vi farò vedere che cosa contiene vabbè, nulla di strano perché abbiamo a che fare con una classica cartuccia qua del primo Game Boy primissima proprio cartuccia e senza contare anche che è tenuta in condizioni veramente stupende infatti quello che vi ho letto era proprio scritto qua dietro notiamo comunque il Wario Land 2 che era il seguito di Super Mario Land 3 oh beh, qua troviamo ancora l'indicazione del vecchio Club Nintendo entra nel Club Nintendo che adesso se non erro è stato chiuso garanzia qua ci troviamo un bel declian per quanto riguarda i titoli del Nintendo 64 perché al tempo era uscito già il Nintendo 64 quindi gli facevano molta pubblicità oltre che al Nintendo 64 se non erro doveva contenere anche titoli del Game Boy che non oso dire una cavolata ma mi sa che ho proprio ragione infatti qua si parlava già di Donkey Kong Land 3 del Tetris Plus Wario Land 2 il primo Donkey Kong Land Super Mario Land 2 Wario Land il primissimo ovvero Super Mario Land 3 Kirby's Dream Land Link's Awakening James Bond 007 anche questo titolo storico Street Fighter 2 bello anche lui e il mitico Bomberman questo per quanto riguarda il Game Boy qua invece per quanto riguarda il Nintendo 64 beh qua non c'è niente da scartare ragazzi tutti i giochi erano veramente molto belli però non sono qua per mostrarvi questo ma più che altro per mostrarvi le condizioni di questo titolo qua il grandissimo Wario Land 2 cartuccia che possiamo vedere in ottime condizioni per non parlare del manuale anche qua ragazzi era veramente stupendo informazioni tutte le tutte le indicazioni per tutta la trama e tutto quanto era successo tutti i vari cambiamenti perché già in questo episodio Wario poteva subire diversi cambiamenti ovvero poteva essere spiaccicato poteva diventare una molla poteva diventare obeso poteva prendere fuoco e incenerirsi diventare anche zombie per non per esatto eccolo qua ubriaco anche per non parlare anche di versione Dracula ah e il ah ecco se veniva appunto da un insetto poteva gonfiarsi la faccia e svolazzare qua diventava piccolo grazie a un incantesimo e non hanno messo mi sembra quello del vampiro però mi sembra che forse il vampiro era nel Wario Land 3 se non ricordo male mi sa che era proprio così comunque ragazzi Wario Land 2 seppur è stato un gioco molto sottovalutato così io sono stato uno dei pochi che ha completato al 100% questo gameplay e sapete che cosa ho fatto che andrà proprio stasera caricato lui è già caricato in privato andrà caricato stasera proprio questo sabato dove vedete questo unboxing verrà caricato tutto il long play se non sbaglio di 7 ore passa di tutti gli stage di Wario Land andrà caricato proprio un long play con dentro già tutti i finali tutti gli oggetti reperiti tutti i segreti compreso l'atto finale dove si vedrà proprio la true end questo soltanto per voi carissimi amici retro potete ben capire quanto io sia affezionato a questo simpatico Wario per non dire che non ho gli amiibo di Wario e tante altre cose comunque questo recupero storico per me è stata proprio una botta di sedere per di più anche versione jig quindi è il massimo per un italiano collezionare una roba del genere con questo ragazzi vi saluto e mi auguro che voi odiate un occhio osserviate che vi possa essere d'aiuto il long play completo di Wario Land 2 ovviamente la versione a colori perché è anche un pochettino più gradevole con questo vi saluto e ci sentiamo ciao ciao